Ehi ciao a tutti, io sono Cinzia e questo video è davvero speciale Ciao amici, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video importantissimo Oggi, finalmente, incontrerò Sabri Cioè, in realtà l'ho già incontrata Sto registrando l'intro dopo averla incontrata, ragazzi Che emozione, ah guardate Sabri mi ama, ho i braccialetti, perché ho comprato due feste, aspetta che vi faccio vedere Questa, fluo, super fluo Tadam E' bellissima Ok, questa è la taglia giusta in realtà Aia, aia, aia E poi ho preso questa Cioè, questa Sarebbe Forsetto sederino E me le sono fatte firmare nelle chiappotte E c'è anche un capello Vabbè, comunque Questa invece è una S O forse XS E una XS Mi piaceva troppo Tipo, mi viene attilatissima Ma non me ne frega Siccome mi piaceva L'ho presa Eeeh Viva E' bellissima Erano rimaste soltanto queste misure E quindi mi sono dovuta accontentare Perché io sono un po' troppo grandicella Però Io volevo incontrarla e quindi Ci sono andata Poi c'è Dalla Sicilia Arrivo a Milano Il giorno dopo Sabri fa un incontro Dovevo per forza andarci Giusto? All'incontro c'erano anche Andre Pica Cere E Sofieland E quindi ho incontrato anche loro Vedrete anche loro nel video Raga, meravigliosi Tutti quanti Davvero Cioè, persone spettacolari Pica è troppo Troppo, troppo simpatico Non so se Oltre alla Sabri Perché sicuro la Sabri la conoscete Se non conoscete gli altri Io comunque vi lascio Nell'info box I loro canali Vi lascio al video E buona visione Ci vediamo dopo Per la chiusura Che emozione Che emozione Guardate Vedrete, vedrete Ciao Buona visione Ci vediamo dopo Hola amigos Come tal? Sono in viaggio Per andare A fare la fangirl Sono una fangirl Raga Anch'io finalmente Incontro La Sabri Si spera Incrociamo le dita E sono in viaggio Vabbè Comunque vi aggiornerò Speriamo Ragazzi La situazione è questa Qui abbiamo Pica Trecere E di là La Super Sabri Si vede Tipo c'è una filemmenza La becchiamo Vediamo Si vedono solo i capelli Comunque abbiamo Un po' da aspettare Ma vabbè Pazienza Spetteremo Oggi fangirl Yeah Ah ma guardate Guardate con chi sono Ciao Mi chiamo Paolo Paolo No No Ah no Ero Andre Io davvero dimenticavo Se l'ha fatto a poco caldo Saluta la mamma Ciao mamma Noi siamo in televisione Ciao Ciao Maria scusa Non metto a fuoco Buongiorno Eccoci Eccoci a fuoco Sono con Pica Meraviglioso Pica Non mi viene niente da dire No Devo dire qualcosa di intelligente o Anche una cosa stupida Qualcosa di intelligente L'ha detto lei Vuoi andare via di là Eeeh Oh non mi viene invento niente da dire Ciao Ma anche Mi dite qualcosa di intelligente da dire Qualcosa di intelligente Ma te ne vuoi andare I pinguini hanno le mani Parla del problema Della plastica Di domenica Allora ragazzi Se volete salvare il pianeta Non bevete dalle bottiglie di plastica No O riciclatele Ok Oppure inventiamo un gongo gigante Che anziché la cacca dei gatti Mangia la plastica Ma non sono i contenuti che ci vanno In questo video Questi qua Va bene Ciao Mi caso so che vuoi fare una clip Di spessore Ma non è venuta Mi basta semplicemente Andre di qualcosa Cosa tu di sensato per chiudere qua I serpenti strisciano solo quando non possono volare Ok Ce l'ha sempre pronta Grazie Ciao scimmiette Vi saluto E sono qui con la cincera Che ne ho conosciuto Bellissima E andremo a vedere il suo canale Che di ogni video mette E metterò tanti like Perché è super spasca E' bellissima Grazie Ciao tutti E' qui Io li voglio lo spazio libero Ma quanto è bella Non è tutto Scusate l'intrusione Arrivata a questo punto Mentre di Tavo ho sentito Queste ragazze Che probabilmente mi hanno riconosciuta Sì perché molti di voi mi hanno riconosciuto E grazie Siete venuti a darmi tanti baci Abbracci e fare foto Yeah Comunque Queste ragazze dicono Cinzia è venuta per le sue nipoti Io tipo Ma in realtà sono venute Loro per me Cioè nel senso La fan sfegatata sono io E Vabbè Giustamente Vedono una 28enne Lì in mezzo Che possono pensare Che Sì Vabbè Sono troppo particolare Io ma Sono una fan di Sabri Cosa c'è di male Oh Cosa c'è Tutto a posto Va bene Continuate la visione Guardate un po' Quanto è bello L'incontro con Sabri Non mi dimenticate Quando dovevo fare Memorata A dopo Ci sono i posti Tu sei? Qui? No Prima di 40 Quindi Vai passare avanti Voi siete? Ah tu sei Prima di 40 Bravo E' bravo Io qui però voglio lo spazio libero Se hai già fatto l'ha fatto Vada via Ti ha aggiornato l'ha fatto Vada via Che numero sei però? B B Che numero? No G D D E dopo la C Vai vai Stiamo facendo B40 B50 Faccio prima di 40 Guarda Sei dopo di lei B50 Sei dopo di lei Lei è B49 No Te lo trovo Guarda il mio Guarda il mio Tu puoi venire Guarda avanti Sempre se ce l'ho ancora Tieni ce l'ho già messo Basta che schiacci il pulsante Vero Hai capito Cosa fai? Vero 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 Sono proprio una fangarle Ma nel frattempo cosa sta succedendo qua? Tutto a posto ragazzi Bellissimo Questo è quello che succede agli eventi di Sabri Ciao Ecco il capotreno Bellissimo Beccati Sì Vero Vuoi fare? Sì No Ce ne avevamo Basta 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 Sicuri? Sì Troppo E se ti paghiamo? Noi siamo arrivati a fare una cosa A fare la cacca di gatti Sì Ah sì Ah sì Ciao siamo arrivati Ciao E niente In tutto ciò Siamo fatti pure la strada con la Sì in pratica Ci siamo fatti tutta la strada Bellissimo raga E no Perché? Perché? Vabbè Primo o poi ci rincontreremo Ci rincontreremo Sì stavo per dire quello E si è scaricata la batteria Però per fortuna ce l'ho fatta a fare l'evento Yeah Brava telecamera Bravissima Comunque Avete visto che meraviglia Finalmente È entrata la Sabri E spero davvero di rincontrarla altre volte Anche i ragazzi Perché sono tutti simpaticissimi davvero È stato un evento meraviglioso Io sono siciliana Quindi li fanno sempre questi incontri al mercato Ma giustamente essendo io siciliana Non ci sono mai Avete fatto caso che la Sabri ha detto tipo Scrivimi Quando le ho detto che ho 200.000 iscritte Che faccio i video per voi Le mie cimiettine Le ha detto scrivimi Ma come faccio? Cioè posso scriverle Ma non noterà mai il mio messaggio Troppi iscritti Troppi follower Troppe Non vedrà mai messaggio Pazienza Però già il fatto che lei sappia che io esisto È molto carina come cosa Comunque ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Io davvero Sono troppo felice E emozionata Ancora tuttora Guardare le immagini Lei è una persona meravigliosa Vi mando un bacione enorme Vivi tantissimo Come sempre E mi raccomando Condividete questo video Facciamolo arrivare a Sabri Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì al prossimo video mi raccomando condividiamolo ovunque per farlo arrivare a sabrie ciao sono troppo felice ancora tuttora ah è un'altra cosa ho dimenticato il libro ho dimenticato cavolini a casa non l'ho potuto fare firmare mi sono fatta firmare la cartolina questa è quella di giorgia però comunque anche io l'ho fatta firmare e questo è un lavoro che ha fatto pica ehi quella è la mia cartolina lo so l'ho detto non te la rubo tranquilla tieni pica pica è troppo simpatico ragazzi veramente troppo 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 ciao ragazzi vi sto dilungando troppo addio che pica è troppo che pica è troppo